Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video ASMR Nel video di oggi con questo ambient spero rilassante, un po' di candele, i miei piattini finte, un po' di luce qui, l'ambiente è sicuramente il mio codino Voglio sfogliare con voi questa rivista che è un po' vecchiotta perché è un contobre novembre 2021, è un Cosmopolitan Io per anni ho acquistato Cosmopolitan tutti i mesi, poi però hanno cambiato gestione, adesso è diventato bimestrale Hanno cambiato il tipo di carta, alcuni editoriali non ci sono più e quindi sono un po' arrabbiata con Cosmopolitan e non lo compro più sempre E niente, non andrò semplicemente un po' a sfogliare in generale con voi, di certo non a leggere tutto perché non finiamo più Però se via via che sfoglio, vedete che c'è qualche articolo che vi interessa, che volete che io vi legga Chiedetemelo e io ve lo leggo in un altro video a parte In questo sfogliamo semplicemente la rivista A me piace molto Questa carta fa schifo onestamente Perché non è la carta plastificata delle riviste classiche che io amo E quindi non sono contenta Però Ho preso le piantine Failed in diretta Comunque Anche soltanto le pubblicità mi fanno capire che sono nel target giusto Di questa rivista Che in grattro mi piace molto E credo appunto di essere proprio nel target perfetto a cui si rivolge Mi interessano le cose che dice Mi sento dell'età giusta Mi piacciono le pubblicità che ci sono I prodotti che sponsorizzano Io li vorrei tutti E quindi penso che sia un tipo di rivista che mi piace molto Infatti soprattutto adesso che è praticamente arrivata l'estate Per quanto io sia ancora in piena sessione Anzi ancora non ho dato esami Quindi all'inizio della sessione Vedete qui ci sono quiz orari Io mi diverto Giochini E cose varie con cui mi diverto Comunque vorrei comprare i numeri estivi Non lo so i numeri estivi sono sempre più belli Poi in realtà il problema è il tempo Perché forse per me io comprerei tante riviste A me il mondo delle riviste affascina proprio Sì ci sono un sacco di cose che io non potrò permettermi mai nella vita Però il bello delle riviste è anche che fanno sognare Perciò lo accettiamo E poi pubblicizzano sempre un sacco di cose alla moda Veramente belle Incontrano molto il mio stile Vedete poi Il tipo di cose Cioè di articoli Che pubblicano A me interessa Piace Sono poco seri Molto tranquilli in genere Ah questa maschera Ve la consiglio Questa qui E' fantastica Così La pagina Si Ah qui c'è evidentemente qualcosa Non ricordo cosa Che volevo comprarmi Ecco questo Bello cerchiato Perché c'è una Orecchietta Ecco Alla pagina Questa rivista Questa rivista non vuole Ma questa è aperta Bello questo vestito Certo costa più della mia vita Però è bellissimo Vabbè con queste piantine Da da piano Fortuna Poveri Poi ci sono statistiche Cose varie appunto Vedete Appuntamento Skincare Corre della pelle Consigli per l'aspetto fisico Interviste A Attrici Persone famose Qui I waffles C'è proprio Sono argomenti Tutti molto leggeri Serie tv Poi consigliano Sempre c'è una rubrica Che consiglia Libri Trucchi Serie tv Non so A me piace Tutto Ecco Questa è la famosa Rubrica Che vi dicevo Consiglia libri Quindi insomma A me piace Ecco Vi dicevo Interviste Tutto accompagnato Da una grafica Che a me Personalmente Appaga E piace Molto Infatti Io ogni anno Vado al mare Una volta A settimana Cioè In verità Io abitavo Al mare In Sicilia Però Proprio Per questo In Sicilia Non andavo Tutti i giorni Al mare Vedete qui Sempre test Giochini Però Nella settimana Di mare In Liguria Che mi faccio Ogni anno Mi riempio Di riviste Perché io Amo Le riviste Vi giuro Che belli Li vorrei tutti Sono perfettamente Insapevole Che Questo tipo Di riviste Non mi aiuta A evitare Acquisti impulsivi Perché Spingono Al bisogno Che bisogno Non è Di Acquistare Sempre Prodotti Nuovi Però A me piace Non ci posso fare Niente Quindi non mi Importa Anche perché Sono Abbastanza Consapevole Ripeto Se vedete Qualche Articolo Sparso O singola Cosa Che Vi interessa Fatemelo Sapere E io Vi Accommenterò Ho qualche problema A tenere le pagine Aperte Ci vorrebbero Decisamente Due Vedete Questa è proprio Carta Comunque Non è neanche un po' Plasticata Come piace a me Poi Adesso Questa era Autunnale Quindi Non fa testo Però Aggiorna Anche su tutti i trend E le mode Motivo per cui Mi piace molto Questa vista La trovo Molto adatta A me Ah poi C'è sempre Una parte Sull'oroscopo Qualcosa Sul sesso Ecco Punto Uscire con un tizio Che ho matchato Su Tinder Mi ha salvato la vita Comprare la tua Prima casa Bella grafica A me è sempre Piaciuta Di Cosmopolitan I must have Del tuo nuovo Dido Super zuppa Mangia tutto Ma in modo Sostenibile Avere Dicevo L'oroscopo Prendi al volo I tuoi sogni E' stato Molto Molto Rapido Come video Come sfogliata Della rivista Però io spero Che vi abbia Comunque rilassato Fatemi sapere Se come tipologia Vi piace E vi rilassa E detto questo Io vi dico Che ci vediamo Direttamente Nel prossimo Video Grazie per aver scelto Di guardare Questo Ciao a tutti